Ci troviamo presso Bago Avzon Gallery, una nuova serie di cento celle, con la seconda edizione della mostra collettiva Premio al Tende, il progetto artitico e tutto il femminile di Tudy Art. La mostra apre le porte al pubblico, non solo in maniera reale ma anche in maniera virtuale, nella settimana in cui ricorre la libertà della giornata internazionale della donna. Infatti è un omaggio da donne ad altre donne, con una mostra collettiva che si fa portatrice di un messaggio di positività. È un omaggio anche alla Dela Artemide, infatti la mostra collettiva porta il suo nome e metaforicamente il messaggio che si vuole lanciare è proprio quello di forza, di coraggio. In un momento in cui necessitiamo di positività è un po' una rimartenza che avviene con queste opere, con queste artiste e con noi anche attraverso l'arte. L'esposizione si compone di una serie di opere pittoriche, figurative ed astratte, fotografia, scultura e video art, all'interno delle quali emerge prepotentemente come protagonista la donna. Volti e corpi di donna ricoprono la tela nella sua totalità come magnetiche ed enigmatiche presenze, ma è nella dimensione dell'astratto che ci si abbandona ai virtuosismi cromatici lasciando spazio all'immaginazione. Alla fotografia è demandato la dimensione onirica della donna, nella video art le due artiste, Miriam Modena e Beatrice Mambati, diventano protagoniste stesse dell'idea.